Erdi Scraia, quali sono le sensazioni dopo queste prime settimane di lavoro con questo nuovo gruppo per te? Diciamo che le sensazioni a caldo sono positive perché ho trovato un bel gruppo che lavora bene e comunque c'è il massimo impegno da parte di tutti. Ovviamente poi dobbiamo mettere minuti nelle gambe, la condizione fisica è quella che è, però comunque secondo me se continuiamo a lavorare insieme, a trovare, analizziamo le cose che non vanno e che vanno, riusciamo comunque a prepararci bene per il campionato. Una trattativa un po' lunga ci pare, quella tra te e il Pescara con anche chiaramente l'Atalanta, cosa è accaduto in quelle settimane? No, non è accaduto niente di che, appena mi ha chiamato il Pescara devo dire che è stata una chiamata veramente che ho apprezzato fin da subito. Poi con l'Atalanta ovviamente abbiamo risolto delle situazioni interne ma erano delle cose veramente piccole e appena ho avuto la possibilità di venire ero super contento di partecipare a questo progetto e non vedo l'ora di iniziare il campionato. Le tue caratteristiche tecniche? Tecniche ti posso dire, posso fare tutti i ruoli in mezzo al campo, poi ovviamente sono un giocatore che predilige avere la palla che non averla, però ovviamente ormai il centrompista deve saper fare tutte le fasi quindi mi metto a disposizione per tutto. Sei stato in D, una piazza molto grande, importante come Palermo, poi hai fatto due anni di Lega Pro, che stagione è questa per te, per la tua carriera? Diciamo che è una stagione molto importante come quelle tre che hai appena nominato perché ogni stagione è la sua. Io spero di dare il mio contributo quest'anno e di alzare sempre l'asticella come ho fatto ogni anno, quindi non vedo l'ora di dare il mio contributo in campo quest'anno. L'ultima quanta attesa c'è per iniziare questa stagione che è slittata di una settimana? Dovete ancora conoscere il calendario, stagione che porterà a cosa? Beh diciamo che lo slittamento del campionato può pesare, però diciamo che noi siamo focalizzati sul lavoro, ogni settimana la stiamo preparando bene e ci concentriamo su quello, poi appena avremo notizie noi ci faremo trovare pronti.